Non so se ha le qualità o la maturità per arrivarci, so solamente che noi dobbiamo avere l'ambizione di arrivare perché comunque quando iniziamo la stagione e abbiamo degli obiettivi da raggiungere soprattutto partecipiamo al campionato, giochiamo per la Champions, per la Coppa Italia comunque noi bisogna sempre avere l'obiettivo massimo davanti poi se siamo bravi, se siamo fortunati o se gli altri sono più forti non ci arriviamo altrimenti dobbiamo fare tutto il possibile per arrivare al massimo risultato di quello che possiamo ottenere senza uscire, perché non bisogna uscire dalle competizioni con il rimpianto di non aver fatto il massimo questa è la cosa che non deve succedere e domani sera è una partita, è una finale secca che giochiamo in casa perché visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio, domani deve uscire una vincente che esca nei 90, nei 120 e a rigore, domani esce una vincente rientrano Chiellini a disposizione, Di Balla e Bernardeschi comunque sono tre rientri importanti perché speriamo di risolverlo ai 90 minuti altrimenti c'è bisogno di 120 e comunque i cambi domani diventano determinanti, diventano importanti poi comunque sia Chiellini che Di Balla e Bernardeschi non hanno i 90 minuti delle gambe quindi possono essere i cambi ottimi quindi in questi momenti il pericolo è andare oltre e pensare oltre la nostra forza è quella di pensare all'immediato, l'immediato è domani poi dopo vediamo, perché altrimenti ora si comincia a parlare di Vittoria Champions di Vittoria Scudetto, no, facciamo un passo alla volta che è la nostra forza perché in questo momento qui perde l'equilibrio e ci potrebbe far male e invece l'equilibrio è la cosa che ci dà più forza ci fa rimanere con i piedi piantati in terra e non bisogna avere questi sbalzi di umore, non bisogna andare per aria, poi scendere di sotto no, questo no, e come la squadra ha trovato e sta trovando un equilibrio importante bisogna cercare di mantenerlo, l'equilibrio è mantenuto poi bisogna migliorare le prestazioni, bisogna sapere a cosa andiamo incontro e poi credo che, l'obiettivo nostro era, ma credo che sia quello di tutti gli anni quando si era una grande squadra arrivare a marzo e giocarti quello che c'è da giocare e a marzo ora bisogna essere, vediamo se siamo talmente bravi ci vuole anche un pizzico di fortuna arrivare in fondo e raggiungere gli obiettivi